oggi cuciniamo le canoce bollite ok faremo la ricetta questa qui è con il corallo che vedete queste quattro striscioline bianche e questa qui che non ha le striscioline bianche è senza corallo ok comunque andiamo a cucinare dai cavo mettiamo sale in una pentola con acqua che bolle aggiungiamo le canoce e le facciamo bollire per 5 minuti poi le leviamo le mettiamo in una bulk con del ghiaccio come si pulisce la cicala di mare giriamo la cicala di mare e troviamo le sue zampette tagliamo bene tutte e facciamo un bel contorno con una bella forbice resistente al suo carapace e dal giù verso il su ritiriamo via il suo cuscino guardate che spettacolo dopodiché le mettiamo in una bella pilofila e ci aggiungiamo un po' di sale pepe limone un filo d'olio d'extravergine e prezzemolo che arriva il momento più bello e assaggiamo sono homer da top ciao ragazzi alla prossima di setta